Per meccatronica si intende il sapere telematico e digitale applicato a settori produttivi tradizionali come la meccanica appunto. Siamo nel nuovo centro ENAIP, l'ente nazionale per l'istruzione professionale del Veneto a Cittadella, alta padovana, forte di ben 400 studenti dove il triennio professionale viene completato dal quarto anno per un diploma integrato, teatro di un convegno con prestigiosi relatori sulla formazione professionale 4.0, alla luce del percorso indicato dal MISE e il Ministero per lo Sviluppo Economico riferito ad una maggiore competitività delle aziende. Introducendo lo strumento dell'apprendistato duale con la possibilità per lo studente di acquisire già esperienza formativa all'interno delle aziende durante il periodo di studi, il governo fornisce strumenti significativi per ridurre la distanza tra mondo della scuola e delle imprese. Cosa vuol dire le imprese dentro ENAIP? Perché anche nel sistema duale ormai i ragazzi del terzo anno e del quarto anno, perché nell'istruzione e formazione professionale si fa il quarto anno, che è un diploma, è un diploma tecnico. Tanti anni abbiamo sentito in Italia mancano i diplomi tecnici, noi facciamo il diploma tecnico. Sono ragazzi che nell'utilizzare le mani usano la testa. Cos'è questa meccatronica, il 4.0? È applicare strumenti nuovi in processi produttivi vecchi. Questa fa evolvere le aziende, dà la possibilità alle aziende di avere nuovi prodotti utilizzando le nuove tecnologie. Per questo sono tantissimo ricercati. Durante l'anno scolastico facciamo uno stage di quasi cinque mesi, che è abbastanza lungo anche. Cioè l'obiettivo nostro è di stare in azienda dopo la scuola, no? È questo. Per cui siete già preparati al mondo del lavoro. Sai che una volta si diceva si usciva da scuola e non si sapeva dove sbattere la testa. Sì, esatto. Questo. Tu invece saprai dove sbatterla la testa. Sì. Apprendistato duale, una vera rivoluzione nel mondo del lavoro. Direi proprio di sì. Significa che l'apprendistato è prima di tutto una strada per conseguire un titolo formativo, dalla qualifica professionale fino al master universitario. Insomma, imparare studiando e lavorando insieme. Accade in tanti altri paesi. In Italia in qualche modo è ancora una novità. Credo che la strada che abbiamo intrapreso sia quella giusta. Adesso bisogna non avere paura e andare avanti con decisione.